Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic e vi porto un nuovo squad builder, visto che molti mi hanno chiesto nei commenti una squadra coreana, full coreana, tranne vabbè un giocatore, dopo vedremo se sentite un po' male la mia voce perché sono un po' raffreddato quindi partiamo subito, una squadra veramente fortissima perché secondo me ha molto bug, molto script a favore questa squadra perché non so, i coreani sono sempre stati così da FIFA 12 fino ad ora è una squadra un po' bronzo, un po' argento e un po' oro, quindi cominciamo subito con il portiere che è argento ed è, non è coreano perché praticamente fanno schifo i portieri coreani c'è Hitz, che è questo portiere qui svizzero che gioca nell'Augsburg perché poi fa intesa con uno dei difensori comunque è un buon portiere anche se non ha delle statistiche impressionanti, ha delle buone statistiche comunque è molto alto, fa delle buone parate, però delle volte come è normale che sia un po' lento magari fa un po' delle cagate in porta, però comunque si andiamo oltre mettiamo allora, qui impostiamo allora, terzino destro, campionato niente, nazionalità, mettiamo Corea del sud, se ovviamente la troviamo, eccola qui e il terzino destro è questo, Chaduri forse si, Chaduri, vabbè un nome un po' strano, costa poco, veramente veloce, discreto in difesa, un buon fisico nient'altro da dire, cioè sono giocatori per lo più veloci ma che comunque grazie alla velocità riescono ad essere forti in tutto inoltre ha pure tre stellabilità, quindi fate le roulette poi, difensore centrale ho utilizzato, potete utilizzare, ci sono tante scelte diciamo, io ho utilizzato questo qui, che si chiama Yun Yong Sun che è un difensore abbastanza veloce, anzi con una grande velocità ovviamente il valore di difesa è molto molto basso per essere un argento però è un 65, quindi se fosse stato bronzo sarebbero delle statistiche veramente devastanti invece lui è argento, costa 1300 crediti, o meno quello che l'ho pagato io fisico veramente bestiale, 85 per un argento 65, è veramente molto alto quindi andiamo con il suo compagno di reparto che è questo qui, Hong Yeon Ho, che l'anno scorso era, se non sbaglio, argento raro ed era veramente forte comunque anche quest'anno non è da meno, con un'ottima velocità di 77 un buon valore di difesa, sicuramente meglio del suo compagno di reparto e un ottimo fisico, inoltre ha basso-alto di workrate, quindi è sempre in difesa però costa tanto, 5000 crediti, ma solo perché gioca in Mundesliga se giocassi in Korean League costerebbe la metà, neanche, forse meno poi, terzino sinistro, un altro ottimo giocatore Park Jo-ho, che sembra Babbo Natale è veloce, ottimo dribbling, ottimo passaggio, ottima difesa, buon fisico questo è davvero un ottimo giocatore, peccato che ha solo due stelle e piede debole in ogni caso ve lo consiglio, perché è davvero un top terzino secondo me, uno dei migliori della Bundesliga e forse il migliore tra i coreani, comunque poi, a centrocampo troviamo qui non gli ho cambiato il ruolo, tanto andava lo stesso Jung-Hon, che lo vedrete su Fute da un'altra squadra però io l'ho trovato solo così però un po' di tempo fa l'avevo preso questo giocatore è un centrocampista difensivo che anche da Cdc, messo in posizione Cc non cambia assolutamente niente, perché ha sempre 9 di intesa è molto bilanciato come giocatore, ha delle ottime statistiche soprattutto una velocità molto alta considerando che è un Cdc, veramente strano, molto forte ottimo fisico, ottimo passaggio, buona difesa davvero un buon giocatore che vi consiglio e che costa poco mentre Cc di sinistra potete usare Choyun Tai che è uno dei miei preferiti in tutto il gioco però io ho voluto provare questo qui, che è un po' più veloce Kim Jong-woo, che è velocissimo come potete vedere e comunque ha delle ottime statistiche nel resto appunto delle sue stats, 4 sale piede debole, costa poco però non mi ha fatto nulla in 6 partite, 0 gol e 0 assist ma ci pensano gli altri giocatori, non vi preoccupate ci pensa per esempio il C.O.C. che è Koja Cheol che è veramente un ottimo, ottimo giocatore in 6 partite, considerate che sono tipo 4 perché mi hanno quittato dopo 20 minuti, almeno in 2 quindi 2 gol e 1 assist in 6 partite, tra virgolette ottimo giocatore per il semplice motivo che ha una discreta velocità, un ottimo tiro un buon finesse shot, un ottimo passaggio e un ottimo dribbling con 4 stelle abilità davvero forte, davvero un ottimo giocatore molto divertente più che altro da utilizzare poi è anche un'ottima agilità che è molto importante poi, alla di destra ho utilizzato Kim Jung Sin che è veramente un mostro questo giocatore perché è velocissimo e ha un'agilità paurosa quindi se voi andate in discesa con lui in velocità non lo prendete praticamente mai perché è veramente un mostro ha una velocità, un dribbling e un'agilità tale da non essere mai preso dagli avversari tra l'altro io ho utilizzato questa squadra contro anche squadre oro, argento, molto forti e ho sempre vinto perché è abbastanza buggata comunque molto forte in 6 partite più o meno che mi ha fatto mi ha fatto sicuramente 2 gol forse 3 non mi ricordo perché ovviamente ne ho fatte altre di partite con questo giocatore e forse quell'assist lì l'ha fatto lui poi, attaccante, prima punta potete usare tanti giocatori ma io vi consiglio Kang Soo Il che è sicuramente il miglior bronzo del gioco coreano sicuramente mi ha fatto almeno 6 gol penso in 6 partite appunto davvero un giocatore che segna con grandissima facilità e con grandissima continuità è molto forte anche in coppia forse anzi è più forte in coppia che da punta singola però comunque si è un giocatore fenomenale con una velocità pazzesca soprattutto un dribbling assurdo 4 stelle abilità è un buon tiro cioè 52 non è per niente 52 sembra più sui 65 e infine come ala di sinistra ho utilizzato Son che volevo provare questa versione man of the match non mi ha fatto impazzire a dir la verità pensavo meglio dalle sue statistiche in realtà si ha un buon tiro un'ottima velocità però il dribbling non è per dire altissimo il passaggio è molto basso il fisico pure non ha un work rate da ala ed è solo un 68 78 quindi non è neanche tantissimo però comunque si è un buon giocatore forse il prezzo è un po' eccessivo però vabbè ci sta anche divertente abbastanza da provare comunque mi ha fatto i suoi 3 gol e un assist in 6 partite quindi è davvero davvero buono ecco comunque la squadra è questa raga secondo me è una delle migliori da fare per i giocatori coreani ovviamente perché è veramente forte in tutti i reparti molto veloce e fa sempre gol quindi raga come sempre io vi invito a lasciare un bel like a 300 mi piace uscirà un nuovo video fatemi come sempre sapere nei commenti se volete qualche squadra in particolare in futuro o se volete che io tratti qualche giocatore particolare in qualche squadra basta che me lo fate sapere nei commenti iscrivetevi al mio canale pagina facebook, twitter, instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione adesso vi lascio alle clip ci vediamo al prossimo video bella raga iscrivetevi al prossimo video iscrivetevi al prossimo video iscrivetevi al prossimo video iscrivetevi al prossimo video